Ma cos'è? Ma chi è? Mi tocca far vedere il casino della mia camera per riprenderti. Liussi, Liussi, sta per accadere una cosa bruttissima. Una minaccia incombe su di te, Liussi. Liussi, Lucio, una minaccia incombe su di te. Arriva, arriva! Il topone! Il topone maledetto! Ma cosa fusi? Devi morderlo, devi cacciarlo, sei un cacciatore tu! Liussi! Dai, Liussi! Ma dai! Sei troppo buono! Vabbè!